Nella conferenza stampa odierna Antonio Conte ha chiarito la sua posizione. Punzecchiato dalla stampa britannica per le sue recenti dichiarazioni rilasciate in Italia, il manager del KELSEA, ha allontanato gli spettri di un addio imminente, aprendo addirittura a una sua permanenza a Londra ben oltre questa stagione. Ho solo detto, che un giorno vorrei tornare in Italia. Un giorno, nel futuro. Ma conosco bene la mia posizione. Ho ancora due anni di contratto con il KELSEA, sono felice di lavorare per loro, con i miei giocatori, ha detto Conte. Per ora, quindi, il manager leccese si tira fuori da discorsi che riguardano il Milan, che verrà Eula nazionale. L'ipotesi rilasciata dal tabloid è su un di un conte alla guida dell'Italia per il mondiale conventura allontanato dopo il play-off anche in caso di vittoria non trova seguito. E a smentirla è stato lo stesso diretto interessato.